Per continuare con il nostro momento di premiazione della community, ricordo a tutti che stamattina Vincenzo Tersulli ha vinto il premio, uno dei premi, la Filippa degli UDX Italia 2020, ricordo le nomination che abbiamo ricevuto, Comba, Tersulli, Fichera, Pilotta, Baggio, Camilli, Zanchetta, Orselli, Rubino, Dinaro, Toff, Importa, ci manca, per il resto abbiamo fatto la formazione dell'Italia, quindi a questo punto io ho il piacere di assegnare il secondo premio di questi UDX, non secondo perché è arrivato secondo, ma diciamo sono tutti allo stesso livello, vinceranno tutti la felpa per essersi contraddistinti. Nel lavoro quotidiano della community e ho il piacere di regalare la felpa questa volta ad una signora, ad una ragazza, Lara Baggio. Lara Baggio ha vinto la felpa degli UDX Italia, Lara spero che tu ci stia seguendo in questo momento, ma immagino insomma che ti arriverà comunque notizia di questo, quindi ci darai poi la misura, poi eventualmente mi farò scegliere anche insomma il colore, perché ci sono diverse varianti sul nostro shop e ti sarà spedita a casa. Complimenti a Lara per il tuo impegno profuso in questi mesi nella community di UDX Italia e ne approfitto per ricordare a tutti la possibilità di acquistare i gadget della nostra associazione, la maglietta, le felpe, che io colleziono in maniera, in questo disco in maniera molto gelosa, ogni edizione diciamo ha il suo cimedio, insomma, piccolo contributo da parte di tutti per tenere viva la nostra associazione. Quindi di nuovo complimenti a Lara e a questo punto io direi abbiamo...